Ma come fai tu a grattarti lano? Sai, all'inizio con la carta vetratta, per tanti, tanti anni. Ma poi non ti esciaguinava il culo? Certo, ma poi ho avuto un'idea. Le mie grattaculo sono ruvide al punto giusto. C'è tutta la mia merda dentro. Tutta, tutta? Tutta. Rosita, il bambino se n'è andato. Ora possiamo.